allora buongiorno a tutti e tutte benvenuti qui nella piazzetta di brilio benvenuta giulia grazie grazie mille per essere qui oggi presentiamo il tuo libro la bambina sputafoco il romanzo di esordio allora prima vorrei presentarti a tutti leggendo la presentazione che tu hai messo nel libro perché mi è piaciuta moltissimo e capirete anche come mai perché allora giulia si è laureata in filosofia con una tesi sulla morte ma giura di essere una persona allegra e di questo poi chiacchiereremo dopo perché è un punto che ci trovate subito in accordo e di giorno realizzi progetti narrativi come creativa freelance quindi scrivi per gli altri oltre che per te e di sera sei una cantante sì tranne oggi che come potete sentire sono vittima dell'aria condizionata però comunque sì e di solito però non ti confondi in questo romanzo d'esordio tu racconti una storia che è tutta tua ma che in realtà racconta anche la storia di qualcun altro dei protagonisti no che non sei tu la protagonista anche se è una storia che conosci bene perché abbiamo mina e lorenzo ci vuoi presentare certo grazie grazie a te grazie a voi allora e la bambina sputta fuoco racconta prima di tutto di mina che è questa bambina che si trova a vivere in un ospedale improvvisamente ed è triste non vuole stare lì ed è arrabbiata ma non abbastanza nel senso che molto rassegnata non vuole uscire dalla sua stanza e fino a quando incontra un bambino che si chiama lorenzo che è molto molto arrabbiato lui anzi all'inizio è proprio molto brusco questo incontro scappa un dito medio addirittura però lei ricorda è come se lorenzo aprisse e allora loro cominciano ad arrabbiarsi insieme contro tutto e contro tutti e fanno impazzire un sacco di persone e però il bello che questa rabbia è calda e quindi è come una sorta di motore termico che serve loro per creare una sorta di mondo parallelo dove rifugiarsi quando il gioco si fa duro e quindi così comincia un'amicizia e come hai detto su questo non è la mia storia nel senso che poi è una storia inventata però il materiale è originale nel senso che anch'io quando ero bimba mi sono malata e ho passato comunque del tempo in un ospedale poi appunto è andata diversamente eccetera però ecco tante cose sono sicuramente cose vere tante altre sono inventate come la fantasia ci permette di fare fortunatamente e sì perché in questo libro noi noi abbiamo tre protagonisti principali perché abbiamo mina abbiamo lorenzo ma abbiamo il mondo fantastico l'immaginazione perché loro costruiscono insieme questo mondo dove loro diventano draghi poi ci spiegherai perché hai scelto il drago perché è molto bella la spiegazione del come mai l'hai scelto perché in realtà la rabbia che tante volte vista come distruttiva è un'emozione che viene vista come maleducata io sono una psicologa e spesso le persone dicono oddio no non voglio provare rabbia perché gli hanno rimandato soprattutto da bambini che la rabbia è una cosa negativa brutta non si deve mentre invece tu qua gli hai dato una lettura dove invece la rabbia è un motore come dicevi prima dove è calda dove in realtà smuove smuove anche montagne e ti fa trovare forse la forza anche dopo una chemio di ricominciare e lorenzo aiuta proprio mina ad arrabbiarsi a un certo punto le fa dire le parolacce ma quelle vere proprio e però c'è questa fantasia che è la protagonista la terza protagonista del libro sì sì infatti come dicevamo prima appunto io ho il terrore che questo fosse un libro tristissimo ed effettivamente è un libro ambientato in un ospedale che parla di una malattia però non è solo questo è comunque un libro innanzitutto sull'amicizia tra due bambini e sulla fantasia che li salva quindi quindi sono d'accordo a metterla come coprotagonista anche lei e sì è fondamentale è una parte fondamentale e si unisce anche molto bene appunto alla rabbia nel senso che una volta che uno apre questa porta della rabbia poi con tutta questa energia ci deve fare qualche cosa ed è bello perché loro possono essere finalmente degli agenti in questa situazione se io mi arrabbio alzo la mia voce sento che ce l'ho una voce e non subisco una situazione e quindi è quello che fanno proprio loro alzano la voce si rendono conto di poter parlare contro la situazione che non gli va e di poter trovare delle soluzioni che a volte funzionano a volte no e che sono fondamentalmente inventate perché poi ovviamente loro a volte sanno cosa gli succede a volte meno una cosa che li fa impazzire di più e non capire il senso delle cose che capitano e allora se lo inventano ecco tanto è vero che i nostri protagonisti sono molto arrabbiati per esempio col medico no? che li obbliga a fare le cure senza dir loro perché perché e questo è vero no? spesso gli adulti non si prendono il giusto tempo per spiegare ai bambini perché sono un po' convinti che loro non capiscano sottovalutano i bambini troppissimo no? sì e invece in questo libro si capisce come loro poi si danno queste spiegazioni che servirebbero agli adulti sì perché io dicevo prima a te no? ci vorrebbe un po' la capacità di fare questo lavoro difficilissimo di spostarsi nelle due funzioni no? prima tornare al nostro io bambino e poi tornare adulti per capire la complessità di questo libro sui due fronti no? e la parte bambina forse è quella che ci spiega di più, che ci aiuta di più perché i bambini qua sono gli unici che riescono a tenere sì anche perché in realtà poi in ospedale la parte genitoriale comunque è strapazzata nel senso che il genitore io lo chiamo e gli chiedo portami via e lì però il genitore perde un po' il suo ruolo e quindi è il primo ad essere disorientato in questa storia e quindi chi prende la situazione in mano sono proprio i bambini che sono quelli che riescono a raccontare le cose come stanno che non hanno bisogno di raccontarsi altre cose per stare meglio ma vogliono sapere cosa succede, come sono molto più dritti, hanno un pensiero molto più lucido e anche molto più accogliente nel senso che parlavamo prima anche di strutture, noi adulti poi ovviamente ci costruiamo addosso tante 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 strutture che ci impediscono di sentire, di dare, di ricevere invece i bambini queste strutture non le hanno ancora e quindi per loro è molto più facile di accogliere anche delle notizie più scure e rispondere anche più facilmente, più direttamente Loro non hanno neanche bisogno di raccontarsi la realtà zuccherandola, no? No, 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 anzi Quando tu racconti per esempio delle sputacchiere, un adulto non riuscirebbe mai a raccontarla in questo modo, no? Anzi gli adulti hanno un po' paura di quello che la malattia porta con sé, mentre invece i tuoi protagonisti non ne hanno paura, loro l'affrontano Sì, come anche, adesso hai parlato di sputacchiera, c'è due pagine sul catarro Oh sì, mio figlio le amerebbe tantissimo, infatti noi lo leggiamo insieme Volentieri, sì perché noi adulti abbiamo anche molta paura di certe parole e di certe parti del nostro corpo, di certi fluidi, non diciamo cacca, le caccole non le nominiamo e invece i bambini lo fanno e quindi anche di tutta questa parte corporea di stare a contatto con il proprio corpo, loro non hanno paura e questo sicuramente li tiene bene quei piedi per terra, nonostante poi loro si prendono molte libertà fantasiose e immaginino però questo è proprio un bilanciare, possono fantasticare così tanto perché hanno davvero i piedi molto pesi per terra, gli adulti invece sono un po' lì a metà che non sanno bene dove stare Sì, infatti Mina cerca ad esempio di trovare un fidanzato per la psicologa perché la vede un po' scompensata Ma è sempre parlare con lei, non è solo con cui parlare E quindi vivono anche gli adulti come forse poco radicati, più bisognosi e cercano di trovare il modo invece di aiutarli a stare Sì, effettivamente gli adulti in questo libro sono molto sullo sfondo ma ci sono tanto e sono molto sullo sfondo proprio perché spesso sono inattivi e quindi è vero che loro cercano quasi di aiutarli e mi piace l'esempio che hai portato che è quello della psicologa, la psicologa è lì per aiutare Mina, ma Mina pensa, vabbè ma noi ti do una mano io perché... e questa cosa succede con tanti, succede con gli infermieri, succede con alcuni dottori, succede con i genitori anche Quindi sì, sicuramente sono loro che cercano di occuparsi in un certo senso di prendersi cura di queste figure che improvvisamente cominciano a oscillare C'è invece la figura della sorellina di Olivia che lei rimane invece suo malgrado sullo sfondo Sì, sì, Mina ha una sorellina che lascia inevitabilmente a casa, che si chiama Olivia e anche quello in realtà è un rapporto di cura, nel senso è vero, lei è sullo sfondo perché ovviamente non la può seguire in ospedale però è quella che le permette di continuare ad avere un rapporto con il fuori pur stando dentro quindi loro si iscrivono, insomma, è un contatto che continua ad esserci ed è bello perché Olivia è più piccolina e quindi Mina a lei sembra quasi di prendersi cura di Olivia rispondendole, dicendole ok, puoi fare queste cose mentre non ci sono e in realtà è Olivia in quel momento che si sta prendendo cura di lei e Mina forse se ne rende conto ed è bello perché le mette in pari, non esiste più una sorella maggiore, una sorella minore c'è solo la sorellanza che è quello che ci interessa, che è poi quello che sta alla base di un sentimento d'amore che si condivide che emerge tanto forte quando poi Mina torna a casa per i primi periodi e dove è un po' disorientata tanto che lei subito è terrorizzata l'idea che il fuori che prima era a casa ma adesso non lo è più perché è il dentro casa ritorni momentaneamente a casa e c'è tanto questo dentro fuori e questo come poi troverò il fuori che è andato avanti mentre nel dentro è tutto immobile e tu lo descrivi molto bene questo c'è una grossa domanda su cos'è una casa, quindi se è il posto in cui si vive, se è il posto che si spera di raggiungere sicuramente Mina dopo un po' che sta in ospedale si abitua a quel posto e quando torna a casa come ho detto c'è un dentro e fuori senza spoilerare niente però le fa strano ha delle abitudini nuove che non può applicare alla quotidianità della casa quindi a volte si chiede ma io dove è che vivo, ma dove è che mi piace stare e questo la confonde, la confonde molto anche perché sono gli adulti i primi che sono confusi perché tu prima hai detto quanto i nostri protagonisti e davvero anche i bimbi perché poi mio figlio ha l'età che indicativamente mi ero immaginata che possano avere Mina e Lorenzo quindi una terza quarta elementare dicevamo prima con il loro corpo loro sono tanto più a loro agio anche sulle particolarità che magari possono essere più divertenti piuttosto che invece preoccupano di più e la maestra invece di Mina non è così a sua agio adesso io non voglio spoilerare niente mi ha fatto molto ridere no? e poi leggetelo e troverete questo pezzo e poi ce ne rifletteremo magari dopo no? sul fatto che noi adulti fatichiamo a stare con la spontaneità dei bambini si ci imbarazza moltissimo come anche tutto il resto delle parti corporee di cui poi si parla anche in quel pezzettino lì e siamo molto distanti da questa attitudine molto spregiudicata buffa, ridicola e quindi noi vogliamo sempre fare la figura giusta di dire le cose giuste e attenzione a non ferire nessuno che è una cosa giusta però cercando poi di non ferire le persone finisce che non ci muoviamo e invece i bambini se ne fregano di più però alla fine manifestano comunque lo stesso grado di interesse e di amore anche senza qualche strato e forse di attenzione in più perché c'è una frase dove tu scrivi che a volte è meglio stare zitti che c'è questa dottoressa quando arriva da Mina e Mina dice ma a volte se non sai cosa dire nel dubbio taci sì, si ricordo che ha detto questa cosa mia e quindi anche questo è importante quanto loro che sembrano invece spregiudicati sono tanto attenti certo tu parli tanto di amore no? e in questo libro c'è l'amicizia che forse è la forma più pura dell'amore assolutamente che tu hai definito un po' che ti fa sentire come se stessi in pigiamo all'amicizia se ricordo bene questo emerge tanto no? racconta un pochino come è nata l'idea di raccontare l'amicizia in tutte le sue sfaccettature senza sconti sì, sì, beh, allora innanzitutto pensando a come scrivere questa storia non mi andava di tirare fuori una storia d'amore che palle, non la volevo non la volevo e perché sono d'accordo che appunto la più grande forma d'amore è l'amicizia perché non ci chiede nessun atto performativo non ci chiede di essere migliori di nessuno e a proposito di accoglienza è proprio questo quindi quando uno ha un rapporto di amicizia va benissimo come sei poi ovviamente le amicizie sono anche costruttive quindi anche Mina e Lorenzo poi crescono insieme si dicono delle cose e si aiutano a vicenda non è che poi vada bene uno com'è e si lascia così si modulano un po' esatto tutto ciò è fatto senza giudizio senza necessità urgente dell'altro che chiede qualcosa e che altrimenti abbandona e quindi a me piace tanto penso anche alla mia vita privata i rapporti più belli che ho sono questi e quindi mi andava di riportarlo è la parte più importante anche della mia vita quindi mi piaceva che esistesse in questo libro con la stessa forza anche perché in tutto il libro noi iniziamo a conoscere questo Lorenzo che subito è molto come dici tu molto sgarbato ma decisamente molto allegato che però piano piano aiuta tantissimo Mina a trovare una parte di lei che forse non si sarebbe mai permessa di vedere di toccare e di esprimere che invece l'aiuta tantissimo poi a diventare il drago no? sì 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 e come mai hai scelto il drago come animale guida? allora sì questi giochi che fanno loro si immaginano di essere tante cose e però poi alla fine ci sono alcune cose che preferiscono ad altre e Mina preferisce il drago perché? perché quando stai male nessuno ti capisce in realtà perché nessuno può essere te e quindi lei per molto tempo ha voglia di tenere lontani gli altri e i draghi sono degli esseri che sputano fuoco sono terribili e a lei piace avere questa questa forza anche di repulsione e al contempo i draghi li conosciamo anche perché sono dei custodi e quindi li immaginiamo sopra questa piramide di ricchezze di preziosi e ciò che è prezioso per Mina è lei stessa è la sua vita quello che sta cercando di difendere in quel momento e anche Lorenzo anche la sua amicizia la sua famiglia tante cose e quindi il drago ha proprio questo così questo significato ambivalente e forte sotto entrambi i lati e quindi poi il drago in realtà non viene fuori spesso perché noi stiamo parlando molto di immaginazione ma questa poi è una storia molto reale quindi entrambi i lati sono molto forti e il drago appunto viene fuori proprio quando ce n'è bisogno fortunatamente non tante volte però però sì è una parte è il suo paracadute e viene fuori in realtà non so se ti è capitato di notarlo solo quando è dentro l'ospedale perché serve lì che lei però alla fine poi lo porta fuori come tratto ma molto addolcito no? esatto perché lei dice mi piacerebbe essere anche di quei draghi che hanno i baffoni e che in realtà non devono sputare il fuoco solente ma che possono essere ecco che possono essere accolti accuditi e che portano anche un po' di buon umore di simpatia no? sì 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 dicevamo non è un libro triste assolutamente ma è un libro che ci fa riavvicinare poi vabbè anche al nostro mondo bambino no? perché ci sono anche delle dei piccoli tratti dove tu scrivi per esempio scegli di dire un luogo che è quello di Nemo sì Sherman 42 quello che vuoi e quindi in realtà se ci si lascia trasportare è un libro che non spaventa mai no? che aiuta tutti a poter parlare di morte di avvicinarsi no? con quelli che è un tabù la morte non è così facile un venerdì pomeriggio ritrovarci a dire ma su via ma perché non chiacchieriamo di morti vabbè per me è un po' più semplice anche per me però comunque sempre però su tutti gli altri che magari sono così a loro agio beh è un libro che non ti fa mai dire oddio lo devo chiudere troppo sì perché si capisce fino alle prime pagine no? che sarà un libro dove comunque il tema della morte ci accompagnerà sempre c'è il cancro noi abbiamo paura addirittura di dire cancro tutti a dire il brutto male no? si chiama cancro possiamo dirlo a alta voce si può fare no? sì ma non abbiamo mai quella sensazione che tu ci voglia turbare e questo penso che sia un regalo per il quale noi dobbiamo dirti grazie perché sei riuscita a portarci in questo mondo raccontarci com'è una giornata in ospedale senza sconti perché non è che mai utilizzi dei termini differenti usi la parola che mioterapia tanto ci racconti delle flebo eccetera ma senza che mai questo ci risuoni come insopportabile io penso anche per chi l'ha vissuto c'è una delicatezza no? tu racconti la tua storia senza voler ferire chi legge che spesso invece è un bisogno no? di chi racconta una parte della vita che magari l'ha profondamente colpito anche perché tu racconti che non è un bisogno non è nato da un bisogno questo libro no è nato da più un esercizio creativo hai voglia di raccontare com'era nella scuola Holden che poi è nato tutto questo sì allora sì alla fine del libro c'è una piccola intervista che ha messo Garzatti che secondo me è stata una buona idea bella e e lì dico che appunto io non volevo scrivere questo libro non mi andava proprio e poi ho fatto un master alla scuola Holden che è una scuola di scrittura che magari conoscete che è il posto dove lavoro oggi e siccome comunque ho fatto un grosso investimento per questa scuola volevo fare le cose bene e c'era un esercizio che si chiamava il cerchio che era molto crudele molto crudele io non so tu come psicologo cosa ne pensi però insomma e sostanzialmente ci si metteva tutti in cerchio e ognuno raccontava una parte difficilissima della propria vita e poi le altre persone raccoglievano una parte del racconto e ne facevano un testo una poesia qualsiasi cosa e la leggevano di fronte agli altri quindi insomma una cosa abbastanza d'urto però io ho deciso di raccontare comunque questa parte della mia vita di cui parlavo da un sacco e non è stato bello per niente e una ragazza ha scritto il racconto che non mi è piaciuto per niente ma perché non ha avuto la delicatezza di non lo so non lo so dire forse io anche non ero disposta non lo so comunque mi sono ritrovata con questa storia fuori e dovevo farne qualcosa e quindi l'ho raccolta con gli strumenti che avevo io che erano sempre quelli della scrittura e ho scritto il racconto io ma non per fare io meglio no me lo sono tenuta per me e mi ha fatto bene mi sono resa conto che mi sono divertita tantissimo a scriverlo e proprio è venuto fuori un racconto comico e si chiamava Due brutti ceffi perché sì loro Mina e Lorenzo sono due brutti ceffi ma anche fisicamente sono pelati sono brutti lo sanno che sono brutti fanno paura e quindi insomma è nato così e siccome mi è piaciuto tanto scrivere questo racconto poi si è allungato ed è diventato un libro ed eccolo e anche la modalità con la quale è scritto dicevamo prima non è semplice per tutti no? ma non perché lei utilizzi termini difficili anzi perché a parlare è la protagonista no? e il flusso di pensieri poi diventa il flusso delle parole no? sì come sei riuscita a riportare tu che adesso sei adulta così bene perché davvero mio figlio pensa e parla in quel modo quando è in quel mood un po' logorroico edo ti adoro ma questo è però tu l'hai riportato qui quindi io non l'ho trovato difficile anzi era solo avere Mina che io le ho dato una voce poi a un certo punto che mi parlava tutto il tempo mentre leggevo come hai fatto? perché non è semplice allora ho fatto un po' di cose che si chiamano prove di voce scrivendo quindi inizialmente ho pensato questa storia e poi ho provato a raccontarla attraverso la voce di Mina grande Mina bambina i genitori una terza persona oniscente così però io mi accorgevo che raccontata da un adulto questa storia era triste era veramente triste e non mi piaceva non la volevo sentire così e invece il punto di vista del bambino la rendeva molto più fresca molto più vera e molto più leggera dove serviva e molto più dura dove anche serviva e quindi ho scelto di andare per questo punto di vista qua e quando ho cominciato in realtà Mina ha proprio cominciato a parlare quindi sì senz'altro c'è un grosso lavoro del linguaggio nel senso che ovviamente io non ho potuto utilizzare tutte le parole metà del vocabolario l'ho dovuto lasciare da parte ho dovuto fare dei grossi giri per arrivare a certi concetti perché chiaramente i bambini hanno la stessa profondità di pensiero che abbiamo noi ma ovviamente non conoscono tutte le parole che conosciamo noi perché semplicemente abbiamo avuto più tempo per impararle e basta però ne conoscono altre però ne conoscono altre infatti e quindi le possono usare e io in realtà su come ho fatto non lo so proprio dire nel senso che anche questo esercizio immaginifico è qualcosa che mi ritrovo a fare continuamente che mi piace e che non ho mai smesso di fare e quindi ah ma perché c'è una penna sotto è vero quando mi capita di essere in giro anche adesso che sono qua mi diverto a pensare a che cosa somiglia a una cosa a cosa che cosa invece è molto diverso da quella cosa cosa me la può ricordare non so se avete presente Rodari quando parla della pietra gettata dei cerchi che cominciano ad arrivare a crearsi e quindi ci sono i cerchi più vicini che sono le cose che chiaramente si somigliano e poi andando avanti noi possiamo continuare questi cerchi possono essere infiniti ed è divertente seguirli tutti e quindi è una cosa che il genere normalmente faccio poi magari lavorando comunque con la scrittura con la creatività magari è normale che mi ritrovi a farlo però lo trovo proprio un esercizio godibile divertente e quindi secondo me è stato anche un po' grazie a questo e poi mi faceva proprio bene parlare con Emina e quindi è stato bello continuato forse è stato catartico mi permetto di dire così il poterlo raccontare con la voce di quando eri piccola no? tu hai detto che l'hai sempre un po' tenuto lì era una storia tua non avevi voglia di condividerla anche giustissimo però forse se tu l'avessi raccontato come adulta non ti avrebbe fatto bene allo stesso modo perché l'avresti sentito lontano no? ma più che altro secondo me è che quando ero bambina non ho proprio avuto voce in quel caso nel senso che appunto non sapevo bene che cosa stava succedendo e non potevo davvero reagire e quindi e quindi ho fatto adesso riprendendo quella voce e poi appunto ripeto non è non troverete la mia autobiografia dentro questo libro però però sicuramente tante cose che avrei voluto dire poi le ho dette qui quindi sicuramente in questo senso mi ha fatto bene e tu descrivi gli adulti no? come diciamo prima non come protagonissima è come coloro che possono stare accanto nel modo giusto no? quello che emerge secondo me è che non devono mai minimizzare e che devono cercare no? di stare accanto chiedendo anche i bambini che cosa gli può servire no? forse qua la figura che lo riesce a fare meglio è quella del signore del tonno no? sì perché mi ha mi ha stupito il fatto che se lo leggesse un bambino probabilmente ci metterebbe tutto il libro a capire che lavoro fa davvero anche Mina ci ha messo in sacco sì infatti sì come ti è venuta questa idea di raccontarlo come una persona così importante ma senza chiuderlo nel suo ruolo allora innanzitutto vi racconto chi è il signore del tonno però volevo che lo dicessi tu sì immaginavo allora il signore del tonno è un prete e ci sono ci sono molte figure in un ospedale volontari infermieri medici poi spesso ci sono delle persone che hanno a che fare con la religione che sostengono i genitori i bambini insomma sono un po' d'aiuto e il signore del tonno è appunto un prete che vuole che Mina dica delle preghiere perché lui crede in Dio e quindi pensa che possano essere utili a Mina non gliene frega niente di questa cosa e quindi trovano una sorta di compromesso fanno un patto siccome a Mina non piace niente di quello che è il cibo ospedaliero perché effettivamente fa schifo ma solo le scatolette di tonno che può mangiare lì allora il signore del tonno in cambio di scatolette di tonno le fa dire delle preghiere quindi loro in questo modo diventano amici e quindi poi è un'amicizia che in realtà si consolida e a Mina piace molto perché a proposito di quello che dicevamo prima ovvero che nessuno dice ai bambini le cose come stanno mentre invece sarebbe bello che qualcuno lo facesse perché possono capire ecco il signore del tonno fa questa cosa quindi risponde a Mina sinceramente e lei lo apprezza moltissimo si sente libera di aprirsi con lui e di fargli tutte le domande sulle cose e lui risponde a seconda di quello che sa e a seconda di quello che crede che a volte non è quello che crede Mina infatti però loro riescono lo stesso a condurre questo discorso e ad andare anche molto in profondità a volte anche perché Mina ci racconta Dio la figura di Dio in un modo assolutamente personalissimo no? e che forse può aiutare anche a ritrovarsi no? a chiacchierare ognuno come ne pensi senza le sovrastrutture come sempre diciamo mentre invece gli altri adulti faticavano un po' che sì 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 lei vabbè insomma ci sono un sacco di spiegazioni alternative in questo libro sia scientifiche che religiose perché comunque Mina queste cose non le sa però le vuole sapere e quindi se le inventa come le piacciono sostanzialmente la versione del Signore del Tonno che è quella cattolica non le interessa e quindi e quindi ne tira fuori un'altra che è più coerente con quello che che ha imparato con quella che è la sua esperienza però non ve la raccontiamo no assolutamente no anche perché è veramente bella questa parte beh dicevamo che è un libro che che ci riporta anche al come i bambini hanno la semplicità di descrivere per esempio ciò che negli altri è un qualcosa che non conoscono no? perché ci sono tanti bimbi in questo ospedale no? a me la parte dove Mina e Lorenzo decidono di dare i soprannomi a stupito no? perché gli adulti spesso non ce l'avrebbero quella competenza di riuscire a stare anche in relazione no? con una persona che soffre così tanto senza rimanerne paralizzati invece i bambini ce la fanno e tu questo lo riesci a descrivere benissimo sì la parte dei soprannomi che poi è una pagina eh sì sì loro danno i soprannomi ai bambini che sono in reparto e anche lì non fanno sconti nel senso che si divertono ma li stanno prendendo in giro e anche loro si prendono in giro tra di loro però ecco noi adulti probabilmente faremo molta più attenzione non ci oseremo ecco non oseremo non ci oseremo un più bontesismo vero? si dice anche qui? sì ero sbagliato ecco c'è tanto della tua terra d'origine o meglio della terra d'origine di Mina come hai deciso di inserire queste persone se esistono davvero se facciano parte magari della tua quotidianità da piccolina allora sicuramente io sono cresciuta in un paesino di campagna in mezzo alle mucche e i boschi proprio così di 300 abitanti quindi veramente un posto piccolissimo in Piemonte e sicuramente ha formato molto molto del mio sguardo e mi andava di riportarlo anche in questo libro e alcune delle persone che ci sono tra queste pagine sono persone che effettivamente sono esistite e tante invece sono ibridi tra varie persone eccetera però diciamo che per me è stato bello parlare di questo mio paese perché all'inizio io ho vissuto comunque prima della malattia un'infanzia molto serena e in un posto molto bello quindi giocavo con gli animali giocavo appunto nei boschi ed è stato meraviglioso però poi crescendo e senza la macchina non vai nella sua parte non c'è neanche un bar insomma per me è stato un po' mi ha stufata un po' e quindi sono sono proprio scappata da questo posto e adesso riportandolo adesso questo libro l'ho scritto già un paio di anni fa tra poi è uscito con calma tempi editoriali eccetera però quando ho deciso di mettere il paese dentro queste pagine è successa una cosa che è stato come un amore di rimbalzo nel senso che se prima questo paese per me era diventato carcere poi è diventato oasi nel senso che l'ho ripercorso e ho imparato a volerli di nuovo bene e adesso ci torno molto volentieri sarà anche che non sono ferma lì posso andare via però prima ero proprio arrabbiata con questo posto e invece adesso invece adesso abbiamo fatto un po' si si nota abbastanza soprattutto perché tu ne parli con tanto affetto sia dei personaggi poi utilizzi i piemontesismi che io dico è fantastico sì non ci sono tanti però sì però quei pochi che ci sono sono proprio belli e ci si sente trasportati in quello che è il tuo mondo anche perché c'è parecchio di te qua dentro tra le righe per esempio pipi calze lunghe sì ci sono tanti ci sono tanti libri in questo libro perché Mina legge ci sono tanti libri per ragazzi e per bambini e uno è pipi calze lunghe e beh parla di una bambina fortissima ribelle quindi Mina sicuramente è attratta da questa da questa figura anche se adesso poi pensando anche abbiamo aperto il discorso libri uno dei libri che invece parlando di quello che dicevamo prima della voce che mi ha aiutato molto a tirare fuori questa voce è stato La vita davanti a sé di Romengheri non so se vi è capitato di leggerlo ve lo consiglio moltissimo che parla di un bambino nelle baglie francesi che insomma racconta la sua storia non ha molto a che fare con la fantasia quel libro lì però ha questa prospettiva bambina che mi aveva proprio acceso appunto un po' di lampadine adesso mi è venuta in mente questa cosa mi piace esitarlo perché è un libro stupendo che ha influenzato molto questo libro Sì perché come dicevi qua c'erano tanti libri perché quando eri tu piccina era un po' non ho niente da fare ma meno male che esistono i libri sì esatto quindi le tue letture erano poi quelle di Mina o no po' sì un po' no nel senso che alcune sì alcune le ho scoperto poi da adulta tipo Roddy Doyle l'ho scoperto da adulta e tra l'altro questo libro non c'è ma un altro libro per bambini che ho scoperto da adulta e quindi è fighissimo è bellissimo leggetelo leggetelo è fantastico l'ho scoperto appunto ma qualche anno fa e quindi insomma prima parlavamo di quanto siano belli gli albi illustrati libri per bambini anche per noi adulti e quindi sì tu perché voi sapete che Nicole con gli albi illustrati esatto anche io li appoggio e quindi sì insomma ci sono cose che ho scoperto da bimba e cose che ho scoperto poi da adulta e che però vale la stessa cosa insomma possiamo leggerli a qualsiasi età sì perché poi in base a come ci permettiamo di farli arrivare ci possono insegnare pezzi diversi e a proposito di pezzi diversi che ci arrivano beh questo libro non è triste assolutamente ma parla di dolore parla di sofferenza e prima ci dicevamo quanto ci unisce il fatto del vedere il dolore non come un qualcosa che ci deve bloccare ma che la sofferenza ci deve dare ci deve regalare un qualcosa ma siamo solo noi a poterlo decidere quanto secondo te questo è fondamentale nella tua vita e poi nel libro anche beh nella mia vita sicuramente tanto sì e nel libro anche nel senso che come dicevamo prima anche tutto questo questo fantasticare vuol dire diventare i protagonisti di una storia e non e non sentirsi raccontare la propria storia che invece questo è molto duro e quindi Mina alza la voce perché va a lei di raccontare questa storia e e e di non rimanerne vittima ecco e questo lo possiamo fare tutti con tutte le nostre storie e quindi appunto mi viene sempre in mente Pavese forse è venuto fuori non mi ricordo più che dice che la verità è che soffrire non serve a niente e è un po' vero perché sta poi a noi dare un senso questo soffrire se se vogliamo che che serva lo possiamo decidere e possiamo raccogliere questa cosa e farne qualcos'altro se rimane così non serve a niente probabilmente farne anche qualcosa che può essere per gli altri un regalo certo io volevo chiederti appunto secondo te quanto un libro come questo possa essere utilizzato nelle scuole anche magari solo a spezzoni e se c'è uno spezzone che poi tu hai voglia di condividere con loro senza spoilerare troppo perché io se no glielo leggo tutto ed è un problema per poter aiutare i bambini che magari non sono stati ricoverati per un cancro o che comunque hanno una malattia o vivono una paura magari anche per qualcuno che gli sta accanto per poter finalmente utilizzare una storia che non terrorizza per arrivare a parlare di un qualcosa che poi è la nostra vita perché la vita è morte certo sì sì assolutamente non si scinde mai allora a me piacerebbe se arrivasse alle scuole un po' è arrivato nel senso che mi capita di fare alcune presentazioni nelle scuole e mi è capitato in alcuni istituti e quindi i ragazzi e le ragazze erano un pochettino più grandi ovviamente di Mila Lorenzo avevano sui 12 13 anni 14 anni anche poi dopo sì ma per cui sono le medie quindi 14 anni ed è stato bello nel senso che ho ritrovato la stessa spregiudicatezza nel senso che loro anche mi facevano delle domande molto dirette molto crude e forse avrei fatto fatica a rispondere ad un adulto nel senso che poi mi è capitato in questi mesi di rispondere magari a delle interviste su certi giornali che cercavano proprio un dettaglio macabro da vendere e però le stesse domande che mi hanno fatto queste persone me le hanno fatte questi ragazzi con tutta altra intenzione volevano proprio solo sapere quella cosa e io gli ho raccontata molto volentieri e poi anche loro si sono aperti tanto mi hanno raccontato le loro storie e a volte mi hanno anche chiesto mi ricordo c'era una ragazza che mi ha chiesto io mi ha raccontato di un trauma grosso che ha vissuto e mi diceva io ho dei grossi buchi e mi piacerebbe scrivere questa cosa però mi mancano delle parti come faccio e allora mi ricordo che le ho risposto inventatele provo a inventarle tu sai che sono inventate quelle parti però sarà bello poi leggere una storia tutta intera e poi sai che cosa c'è che cosa no se poi te le ricordi le sostituisci poi guarda come ti risuonano esatto anche perché la realtà è soggettiva e la costruiamo noi quindi se ti risuonano bene chi ti può venire a dire che non sono legittime esatto che non possono essere narrate come come importanti sì sì e quindi quindi sì secondo me sarebbe importante adesso sarebbe bello portare il libro ma generalmente sarebbe bello portare questo discorso nelle scuole mi chiedevano quali resistenze invece hai trovato sia magari da chi leggeva il libro o magari quando l'hai proposto qualcuno che ti ha detto ma sei sicura ma anche da parte magari di alcuni familiari hai trovato qualcuno o più di qualcuno in realtà poco fortunatamente l'unico dubbio che era venuto fuori proprio con Garzanti era pubblicarlo in questo momento che si parla tanto di ospedali covid e quindi le persone avranno voglia di sentire ancora parlare di ospedali però siccome questo libro ne parla in un modo totalmente diverso allora abbiamo deciso che insomma poteva valere l'esperimento e sono contenta di questo però in realtà no non ho ricevuto resistenza fortunatamente l'hanno accolto penso tutti anche come davvero una storia di amicizia di bambini che potesse essere un qualcosa che valeva la pena riascoltare sì perché appunto primariamente è questo non è la vita di ospedale anche perché non c'è solo l'ospedale in questo libro quindi fortunatamente abbiamo avuto un po' tutti lo stesso tipo di sguardo e quindi ci siamo accordati lì e qual è la parte che hai amato di più scrivere? c'è una parte dove hai detto sì questa mi sento proprio che mi riempie il cuore e che mi emoziona magari perché è vero che non si piange ma ogni tanto ci si emoziona ma in realtà fatico a trovare una parte preferita sai è stato proprio bello perché appunto Mina è molto chiacchierona non lo chiameremo un flusso di coscienza perché sembra tanto serio e invece non è così serio però a me ha fatto ha fluidificato proprio questa sua voce che va avanti e non si ferma quindi mi sono goduta proprio tutto il viaggio non sono affezionata ad una parte in particolare anche se la parte sul catarro di prima è una parte a cui sono molto legata la leggiamo la leggiamo anche perché però non so dove stia bisogna trovarla se non è quella con il catarro l'ho stegnata sì potreste averla stegnata è che ho stegnato troppe colte e quindi non lo so nel mentre che noi cerchiamo il catarro voi avete domande volete perché fa ridere noi che cerchiamo il catarro perché state in attesa se no perché perché se no ce la racconti tu perché ma forse scusate ma il bello della diretta perché è imperdibile quella parte un'altra parte a cui sono affezionata è la parte dove Mina racconta che cos'è il drago per lei la piccola storia se trovo o trovo uno o trovo l'altro una delle due sì beh io allora invece ringrazio la libreria Brivio per avermi dato la possibilità di presentare questo libro bellissimo che ho già proposto a mille persone grazie ho trovato prima la parte sul catarro e mi tocca questo allora scusate la voce il catarro non è sempre verde come i pini a volte è giallo o marrone oppure rimane bianco e se sputi sembra solo una solida palla di saliva il mio catarro lo sputo in un bicchiere di plastica di quelli bianchi con le righine orizzontali che se ci passi sopra l'unghia fanno il verso delle rane dura solo qualche giorno poi lo cambio perché puzza e mi fa schifo avvicinarmi con la faccia anche se è roba mia ogni volta che ne prendo uno nuovo mio padre tira fuori gli indelebili e ci disegna su qualcosa perché non vuole rischiare di berci per sbaglio ed è meglio così perché anche se lui mi rivolge la parola è ancora parecchio arrabbiato e non vorrei che se la prendesse di più qua è appena successa una cosa che ha fatto molto arrabbiare tutti sul bicchiere di oggi ci ha fatto paperino con la bocca aperta e la lingua rossa triangolare ci ha scritto sotto la sputacchiera l'ha deciso lui di chiamarla così mi ha detto che i cowboy ce l'avevano anche loro e che questo è il nome originale però non era personale ci potevano sputare tutti a me non spiace essere un cowboy ma mi ritengo più pulita e preferisco non prestarla neanche a Lorenzo ma lui tanto non la vuole perché usa i fazzolettini di carta se li porta sempre dietro ci sputa dentro due o tre volte e poi la pallottola li butta per terra io lo trovo e so sempre dove è andato sputare mi piace quando stavo a casa mia facevo legare con Olivia ma il catarro non c'entrava perché usavamo i noccioli delle ciliegie i noccioli i noccioli i noccioli chi lo sa va bene ci mettevamo in terrazzo e guardavamo la vasca di ceramica in fondo al prato era vecchia e sporca e sembrava caduta dal bagno di uno che vive su un altro pianeta e ha lasciato le finestre aperte senza agganciarla bene ai tubi invece la mettevano lì apposta per le mucche la riempivano d'acqua e loro ci bevevano tutto il giorno noi volevamo colpirla con i noccioli ma avevamo imparato che per fare centro non dovevamo guardarla il trucco era questo puntare oltre più in alto così alzavi bene la testa e la bocca era nella posizione giusta il nocciolo schizzava sopra il recinto di casa sopra la corda elettrificata attorno al campo sopra l'erba piena di cacca e sopra le mucche che neanche si accorgevano arrivava dritto nella vasca pluf dieci lanci esatti per vincere ma dovevi mirare con la bocca perché mica si sputa con gli occhi ogni tanto arrivava il nonno e ci diceva che non era roba da signorine e poi lui rideva perché a sputare i noccioli ce l'aveva insegnato lui allora si metteva vicino a noi chiudeva la mano a pugno e tendeva solo l'indice se lo infilava in bocca e usciva lucido di saliva e da vicino puzzava parecchio lo alzava sopra la testa per sentire dove tirava l'aria e annuiva una volta quando aveva capito poi prendeva 4 o 5 ciliegie e se le infilava tutte in bocca sputava a mitraglia e vinceva tutto a fare la cosa dell'aria ancora non riesco ma comunque me la cavo a volte provo a centrare la sputacchiera da lontano ma dopo che ho sbagliato due o tre volte me l'hanno vietato il problema non è l'aria perché qui è tutto chiuso e di aria non ce n'è e che il gatarro per quanto ne ammucchi resta sempre più liquido dei noccioli e quando vola prende le sue forme mi sono proposta di studiarlo meglio perché credo ci sia un modo giusto per lanciarlo sono sicura che il nonno lo conosce e quando torno a casa è la prima cosa che gli chiedo intanto grazie mille io penso che queste due pagine vi abbiano dato un po' la possibilità di capire quanto raccontando qualcosa che è il catarro che per noi magari adulti fa schifo ma fa schifo a tutti e invece per i bambini è un mondo tu tocchi tantissime parti la rabbia degli adulti la difficoltà di gestirla di saperla tenere cioè i due protagonisti sono capacissimi di rendere la rabbia un qualcosa che è anche positivo mentre invece gli adulti faticano è per quello che noi la viviamo come un'emozione maleducata e faticosa perché noi fatichiamo e poi parli anche di volgere lo sguardo più avanti più in là più in alto cioè l'idea che noi possiamo guardare oltre anche quando forse tutto ci limita lei dice qua non c'è aria è solo lo sputo che non funziona come noccioli e tutto il libro è così nel raccontare cose che poi forse sembrano semplici banali invece tu arrivi a una profondità che se uno si permette in qualche modo di condividere arricchisce davvero tanto perché dicevamo tu devi sintonizzarti su quello che è il mondo di Mina il parlare di Mina il pensiero tu prima hai detto ma il flusso di coscienza forse è forte ma secondo me no perché lei fa un lavoro di introspezione che la maggior parte degli adulti non riuscirà mai a fare probabilmente perché si mette le barriere perché ha il terrore di quello che può trovare lei non è spaventata di quello che può scoprire di se stessa e degli altri tanto che è perniciosa no a volte nell'andare a comprendere a farsi spiegare e ci deve essere voluto tanto coraggio no per riuscire anche ad arrivare così in profondità per te dico oddio sì forse sicuramente non mi è pesato però quindi quindi forse adesso me lo dici tu e penso che sia vero però non è su questo che che mi sono sentita di avere l'attenzione mentre l'ho fatto e quindi appunto è stato anche questo molto fluido sì perché ti apparteneva già no cioè sei riuscita ad andare a rintracciare proprio questa tua parte bambina no sì che però logicamente aveva una consapevolezza diversa certo sì ma infatti ho fatto poi anche delle ricerche da adulta nel senso che sono tornata in oncologia pediatrica ho sentito dei dottori dei psicologi nel senso io avevo una visione appunto che potrebbe essere comunque falsata un po' di quello che è un percorso del genere quindi sì poi hai riempito un po' quei buchi che dicevi prima esatto che non avevo quando ero piccola sì una parte molto bella del libro quando Mina spiega i globuli bianchi no sì e il come lei ha voluto che glieli spiegassero per bene tanto che poi riesce a spiegarseli anche lei no sì torniamo sempre lì il fatto che i bambini possono capire solo se gli adulti si permettono di mettersi alla loro altezza di cercare di trovare un linguaggio che non è tecnicismo certo ma che è ti spiego solo che se ti spiego poi tu ti permetti di farmi le domande e allora mi metti in crisi sì qua ci sono tanti momenti nei quali noi vediamo quanto gli adulti spesso faticano sì a stare con la realtà che invece i bambini hanno bisogno di conoscere i medici ma anche solo rispetto alle relazioni questo emerge fortissimo forse possiamo imparare da Mina e Lorenzo anche a come si sta nel momento in cui bisogna affrontare la morte no certo sai che la frase che a me è piaciuta di più in tutto il libro la posso dire senza spoilerare secondo te se la facciamo sì così non lo so sì no posso dirla perché non spoilerò ok perché giuro non vi racconto niente perché dovete leggerlo e dovete viverlo questo libro farlo vostro prendetevi il giusto tempo non si legge in due giorni in questo libro si legge in dieci ma perché non li vuoi lasciare e a un certo punto c'è una frase bellissima quando Mina dice io dico questo è un saluto di grazie la gratitudine no ci siamo ritrovati prima a dire quanto noi dobbiamo allenarla la gratitudine e i bambini forse sono i maggiori maestri sì della gratitudine questa frase racchiude secondo me il senso di tutto il libro il saluto di grazie che forse è una frase che è messa lì e non in tanti hanno colto come invece secondo me il lascito che tu volevi dare poi non so magari è un'interpretazione mia personalissima certo sì ovviamente adesso noi lo diciamo senza che ci sia un contesto quindi è molto difficile esatto però sì si parla di gratitudine si parla di saluti in tanti modi insomma però sì sono d'accordo sono d'accordo ed è una parte che ho voluto tessere anche qui dentro quella della della gratitudine anche perché probabilmente è anche per quello che Mina e Lorenzo riescono a tirare fuori tanto da questa esperienza perché riescono a trovare i punti che ancora sono illuminati ne sono grati e quindi li contivano sì un'idea di un nuovo romanzo qualcosa che frulla sì e che noi siamo in attesa c'è e c'è anche da dire che quest'anno è stato molto impegnativo sto fortunatamente portando in giro il libro tanto e intanto ho anche un lavoro che devo continuare a fare e quindi il tempo è veramente poco però quest'estate vorrei ritirarmi proprio come nello stereotipo dello scrittore e della scrittrice e mettermi a scrivere qualche cosa perché ho tante tante idee però le idee da sole non vogliono dire niente bisogna metterle giù bisogna spiegarle bisogna vedere se reggono e questo è quello che mi propongo di fare il prima possibile anche perché prima ho parlato di questa metà del vocabolario che è rimasta da parte perché ho utilizzato la voce di una bimba e vorrei utilizzare anche l'altra parte del vocabolario per il prossimo libro mi manca perché inizia anche a richiedere di essere forse esatto e lì che freme e si quindi spero spero possa arrivare presto questo tempo comunque se vuoi ritirarti qua in Valle d'Aosta non c'è niente da fare ti annoieresti come la bambina le bucche le abbiamo anche noi anche qualche vasca dove possono bere quindi noi cioè se vuoi ti accogliamo grazie un po' per uno a giornata alterne bello potrei dire se vuoi scrivere questo romanzo in Valle noi siamo pronti ad accoglierti grazie io ti ringrazio tantissimo perché sei riuscita oggi a regalarci davvero una presentazione che è stata come dici tu allegra anche se parliamo di morte non è così scontato non succede spesso e penso che sia venuto voglia a tutti di leggere questo romanzo grazie anche a te a questo punto è la libreria un romanzo d'esordio che davvero è un capolavoro perché è bellissimo se qualcun altro ha qualche domanda noi abbiamo Giulia qui e quindi poi potete scriverle dopo aver letto la stalkeriamo non è un problema stalkeratemi io rispondo a tutti e a tutte perché sappiamo che c'è chi ha amato tantissimo il libro e che magari ha una domanda da porre poi io non faccio nomi ma vabbè ma anche dopo anche dopo se vuoi ok allora se se non ci sono altri commenti da fare io ti ringrazio tantissimo ti aspettiamo presto grazie grazie a tutti per la partecipazione grazie grazie